Ciao a tutti, ben ritrovati qui su Cidola in Art Games, siamo in Harry Potter e il Principe Mezzosangue nella scorsa che abbiamo affrontato le sfide del Quidditch e adesso è arrivato il momento di affrontare finalmente il club dei due lanti di Griffondoro che abbiamo sbloccato all'inizio del Let's Play wow duello junior scontro numero, oh mio dio, saranno cose facilissime adesso vediamo guardate, due punti vita e boom vorremmo andare il club dei due lanti più facile non mi preoccupo di perdere punti vita perché ricordo che ho già sbloccato la spilla ok se non sbaglio c'è una spilla grazie se non sbaglio c'è una sfida che vi dice sconfiggete il duello sostanzializzando soltanto Protego se volete fare quella spilla vi consiglio di farlo con questo primo duello cioè quello di Gryffondoro Junior perché è il personaggio in tutto il gioco che ha meno punti vita ok io ovviamente non mi sono preoccupato di guadagnare quella spilla ma per guadagnarla vi consiglio di farla così quindi affrontate il duello prima di questo e poi ci sono addirittura gli ostacoli ma non è grave possiamo tranquillamente fare un potenziamento massimo ok abbiamo distrutto un caso di legno perché nel duello di prima avendo il personaggio di 82 punti vita con veramente pochissimi Protego e riuscito a tenere quella spilla e boom ok i duelli sono proprio belli sì ovviamente non avendo fatto combo otterremo punteggi bassissimi dovrete tenere 5 dovete assolutamente farlo quando non avete gli inchiestimi potenziati perché toglierete di meno avrete più possibilità di fare combo scontro numero 1 questa avanza io nooo vediamo se vuoi sanitare questa ok questa non vuole proprio arrendersi a quanto pare ti ho beccato finalmente vuoi battere a riposter no mia cara non puoi scontro numero 2 ok vediamo quando tolgo attenzamento massimo boom quasi tutta la vita e blind va bene buono 9 c'è tra le 5 stare più lunga 5 buono saluto 70 punteggio finale 1720 punteggio finale 4 e finalmente il campione se tu sei il campione beh non mi interessa io sono il prescetto caro vai è il segnarmus ah no osato meglio molto meglio wow la abbiamo completamente devastato ok potenziamento 1 potenziamento 2 dan 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 tattica perfetta buono 10 eccezionale 7 stare più lunga 9 buono saluto 100 abbiamo vinto senza tenere nessun punto salute punteggio finale 2359 5 ora i tanganesi sono più potenti molto bene ok ci ritroviamo qui e proseguiamo abbiamo completato anche i duelli di grifondoro quindi quello che dobbiamo fare è completare finalmente i duelli di serpeverde allora però c'è una cosa che voglio fare prima prendere assolutamente quei due quei scudi perché sin dall'inizio dell'explay ho detto devo prenderli e veramente ormai è passato abbastanza tempo si levatevi di torno serpeverde grazie come no infatti non gioca neanche più ok vieni verso di me grazie 1000 e 1 per questione di principio questi vesturi veramente vanno presi e 2 ok c'è dell'altro ok ah penso che vi abbia dimostrato qualcosa invece no si dice una tossata per i vari mini missioni ma non ho voglia di farle sinceramente non voglio di preparare né pozioni né cose assurde dove vado dove vado il club dei due lanti è di qua qui c'è il club dei due lanti di oh ma qui c'è uno si vede che questa donna non l'ho mai esplorata reparo niente la goffiaria ho mai esplorato tra l'altro comunque non c'è niente a parte scudi ecco 68 di 150 vabbè dai finché gli scudi sono così evidenti prendiamoli no ok vieni con me grazie mille caro sei molto gentile tesoro adesso prendimi lo scudo ho detto lo scudo dov'è eccolo qui ok 69 di 150 dove saremo arrivare a 70 ecco qui c'è il club dei due lanti di vabbè vuoi aver battuto il campione juli ma scommetto che c'è un incantesimo che non conosci bene petrificus totalus certo che sono alzare si usa per paralizzare l'avversario non puoi fare totti stai ventendo no e ora ti farò vedere è come l'incendio e due tecnicamente questo dovrebbe essere l'incantesimo più forte infatti pietrificare l'avversario va bene le tessi mano a lungo ed è molto più veloce del levicorpus e così lo sai lanciare bravo certo un set verde lo lancia in modo molto più efficace se lo dici tu spilla del zellante sicuramente perché abbiamo guadagnato tutti gli incantesimi non riesco a capire quale altro motivo ora prima di andare a club dei duelli voglio salire qui ricordate questa zona eh sì che la ricordate in arrivata all'ordine della fenice abbiamo per favore fammi salire abbiamo anche recuperato la macchina fotografica per Colin Cannon ok ok scudo veramente facile naturalmente dovete aver preso dei determinati un determinato numero di scudi perché i fuochi d'artificio saranno disponibili solo dopo aver sbloccato un tot di scudi se vi ricordate è successo proprio così per noi quindi l'incendio si lancia come il pietrifico sto talus il vignardum leghiosa come il levicorpus eccetera eccetera più o meno sono sempre gli stessi allora beh qui è praticamente ma funziona il nuovo spesso quindi chi se ne importa 70 di 150 ok siamo arrivati a 70 scudi bene buona cosa naturalmente qui non potrete scalare il petto di Hogwarts come per l'ordine della fenice mi raccomando non fate pazzia ora ora lì vedo qualcosa no è un semplice punto rotto ok reparo grande scuola numero 71 scuola numero 72 cioè praticamente qui lo trovate all'angolo qui si entra per il castello quindi evitiamo facciamo i duelli di sorte verde e potenziamo i nostri incantismi al massimo una volta per tutte ok duella junior ora potremmo ammirare la vittoria del campione junior di serpe verde contro il poffino poppe si purtroppo i commenti qui saranno veramente molto noiosi e contro di noi ma non ci interessa perché noi vinceremo guardate quanti punti vi danno che terrifico sto palus guardate sempre il massimo la stessa tecnica ma è distretto dell'evi corpus come avete potuto notare che altri triviti di totale sui incantismi non riverranno rispinti quindi interessante quindi conviene l'evi corpus dopo tutto però il potenziamento massimo come avete potuto vedere toglie comunque energia quindi fatelo vedete eeeh uno toglie comunque energia non abbiamo l'evi corpus oppure l'evi corpus anche meglio molto più rapido infatti se lo dici tu non vedo l'ora di battersi e succederà molto presto si è molto più difficile ottenereste le macchine ma non mi interessa bisogna fare tutte le combo c'era un trucchetto con l'expelliarmus ora non ricordo più ma credi di essere all'altezza della nostra spesa vero? si vediamo per quanto tempo riesci a resistere per tutto il sistema in cui non riesci a resistere tu visto che senti i deboli di tutti ok tu credi di essere brava due ellis ma per favore ok 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 se proviamo la tecnica dell'espelliarmus vediamo con l'espelliarmus riusciamo a navigare perché sono stati di tenere i numeri di colpi che diamo bam 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 Posso fare più quanto vuoi, ho vinto Buono 27, eccezionale 5 Nel più lungo è 14, bonus sono 90 Sì, abbiamo 34 anziché 3 Punteggio finale è 4 Mi va benissimo Duello senior numero 2 Allora, alzati, alzati che ho detto Non ti alzi? Mia cara, sono che fosse io Ah, ah, vendetta Contro due Ah sì, ve lo meritate E come se ve lo meritate Guardate, non ho bisogno neanche della vita di Hogwarts per battermi Ti fai battere? Ti fai battere cara? Buono 34 Eccezionale 4 Spera più lunga 18, bonus salute 90 Punteggio finale è 1810 Equivalente a 4 Ma arriva bene così Ok, campione del duello Ma per favore Non è che i suoi punti di vita ne sono tanti Guardate quante punti di vita Ne ha veramente tanti Ma io ho piaciuto questo Talos Ah, io ho piaciuto questo Talos Come avete potuto vedere Toglie vita Ehm, nel lato del tempo Guardate Guardate I suoi punti di vita scendono Bello eh Non l'avevo notato prima Quindi è successo per le suoi punti di vita Sto Talos Scontro numero due Ok, scontro numero due Ok, scontro numero due Pietro di vita Ehm, nel lato del tempo Ehm, nel lato del tempo Ehm, nel lato del tempo Guardate come i suoi punti di vita scendono Aspettiamolo E poi Ehm, vai Sono finito Oh Harry, no No, 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 no Cosa è successo? Ha usato il protego L'avete capito, eh? Ha usato il protego Cavoli Usato il protego L'ultimo secondo Si è ribattuto Contro la maledizione Eh? Ma adesso Non mi faccio pregare Due volte, mio caro Può essere sconfitto Da pietrifico Sto Talos Se vuoi Non mi interessa Vendetta Vendetta assoluta Scommetto che andrà subito A dichiararlo ai giornali Assolutamente sì Buono 10 Eccezionale Quasco Sare più lunga 4 Buono salute 7-7 14-91 Perché leggo così? Punta che finale 2 Ma non me ne importa Ho vinto 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 Sì, l'avremo E sui duelli Perché abbiamo battuto Tutti i duelli I tantissimi sono più potenti Finalmente E quindi Via Indietro Abbiamo battuto Tutti i duelli Siamo i campioni Siamo i campioni E qui ci sono Altri scudi Allora Da qui mi si va Alla rimessa delle barche Se volete andarci E ci sono altre cose Scusate Scusate se eventualmente Si è sentito il suono Roba di Ha il cellulare a fianco Quindi Non potevo evitarlo Ciao 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 Allora Ultima cosa che dobbiamo fare È andare Al club di Pozioni Quindi Io direi di andarsi subito Con una bella N Ok E infatti lo è Grazie Sodom sono le terre Ma non mi va di prendere La strada lunga Magari lui mi fa Prendere la strada più breve Ecco infatti Ok Grazie Nick Che mi fai prendere la strada più veloce Perché se no qui non ci mettiamo cent'anni Ciao Allora Dov'è di qui No di qui Scusami Nick Sì Ok Ah ok ok Sì sì Ora ricordo Qui si trova direttamente Pozioni Cioè volevo dire Erbologie Molto molto bene Ora speriamo che la pozione Regeneratrice sia Subito qui Grazie mille Pozione Regeneratrice sia Vediamo Curabolle Distillata della morte vivente No Non possiamo farla E Eccola qui Rinforzante della vista Polisucco Eccola qui È già disponibile Quindi La faremo subito Sì Sì No Sì Ok Vai Vai Bollisci Ora questo diventa rossa subito Ecco infatti Ah Va diventa arancione Per favore Avanti Ancora Bollisci Gialla Ok Verde Diventa verde Grazie mille Ok Ok mi sa che non andremo avanti Blu Bollisci diventa blu Ok Ma no quante volte devo farlo sto coso La pozione di Regeneratrice Cioè non c'è bisogno solo del muco di vermicroni Ok Rosso Ora queste cose cinque Uno Due Tre Sì lo sa difficile Quattro Cinque Giallo Uno Due Tre Quattro Cinque Gialla Gira fino a rosso Arancione Gira fino a giallo Ancora Ancora Arancione Blu Blu Viola Rosa Gialla Rossa Verde Ah esplodo Dai 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 Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Per favore Ok Bolli Verde No non ci credo Non ci credo Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Ragazzi Non ci credo Mamma mia Punteggio Finale Cinque Ma ce l'abbiamo fatta Ok Siamo riusciti a creare la pozione rigeneratrice Lui la beve Ora l'autostaluta Dovente due L è maggiore Ah Ecco Perché serviva Ma per oggi è tutto Dovremmo incontrarci Consilente Nella torre di astronomia Quindi spaventate Che questo video vi sia piaciuto E noi ci vediamo presto In un prossimo video Di Harry Potter Il principio Dove ci accingeremo Ad affrontare le sfide finali Quindi Ciao